Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti se siete nuovi. Allora, come avete letto dal titolo, oggi andiamo a fare un unboxing, un altro unboxing da Lanamania. Ho preso altri tre lotti di filato perché con quelli che avevo provato mi ero trovata molto bene, ho continuato a sentirmi seguita super bene. Quindi ho voluto riprovare a prendere altri articoli. Come vi avevo detto nel scorso knitting vlog, mi sono trovata bene con tutti alcune lane. Ho visto che mi pizzicavano addosso perché io ho una pelle che la lana poco tollera. Quindi non ho preso gli stessi prodotti, ne ho provati degli altri perché comunque la ritengo un'azienda super seria e con veramente dei bei prodotti. Allora, perché la vedete in questa scatola molto diversa dal solito? Allora, questa scatola si presenta così come una vera e propria scatola regalo. Allora, questa scatola faceva parte di un kit che io ho preso sempre da Lanamania e quindi avendo mandato il pacco da mia mamma, mia mamma per togliersi il pacco grande e tenere tutto insieme ha montato la scatola e ha messo tutto qua dentro. Non vi arriva così, vi arriva tutto diviso ovviamente se fate un ordine da Lanamania. Anche perché non è detto che compriate i miei stessi prodotti. Io adesso mi ricordo come erano composti i vari kit che io ho comprato, quindi la apriamo insieme. Tanto è un nastrino e andiamo a vedere prodotto per prodotto che cosa io ho comprato. Allora, ho tentato di mettere anche uno sfondo bianco oggi per vedere se riusciamo a vedere un pochino meglio. Allora, il primo kit che ho comprato è, si compone così, un gomitolone o neone di Van Gogh Luxe di Mistrico Filati. Top quality microfibra, soft touch, quindi è morbidissimo, leggermente lurex, non eccessivo. 200 grammi, 700 metri, 97% microfibra, 3% poliestere, che altro non è che il lurex. In questo kit erano anche compresi due gomitoli di perfetto della Mezz Cucirini, che io già conosco come filato e mi sono trovata benissimo, quindi già lo conoscevo. Un uncinetto in omaggio, che è uguale a quello che mi hanno omaggiato l'altra volta, che ho ancora qui in giro. E infatti adesso li vado a mettere insieme. E un sacchettino argentato con dentro due applicazioni randomiche, quindi se comprate questo kit non è detto che vi arrivino le stesse. E sono due applicazioni ad alberello di Natale. Con queste ci potete fare quello che volete, ci potete fare i marker, ci potete fare gli orecchini, ci potete fare dei ciondoli, ci potete fare delle applicazioni per qualcosa da bambini, non troppo piccoli perché rischiano di metterle in bocca, però insomma si possono fare tantissime cose. E in più vi rimane il sacchettino argentato se dovete fare un pensierino. Con questo kit era compresa anche la scatola che avete visto all'inizio. Quindi un bel kit completo. Non mi ricordo i prezzi assolutamente. Io credo, credo, questo di averlo pagato intorno ai 12 euro, se non mi sbaglio. Ma non prendetela come verità assoluta. Un'altra cosa che dalla fotocamera si percepiva leggermente ma non si capiva benissimo. Il punto di bordeaux non è lo stesso. Vedete, questo è un po' più rosso di questo. Questo è leggermente più violaceo, è molto più acceso questo. Quindi messi insieme fanno un po' a pugni, però 700 metri riuscite a farci comunque un po' di cosine. Tant'è che qui dice che un maglioncino taglia 42 con due gomitoli lo fate. Quindi con uno non fate un maglioncino, ma fate comunque delle belle cosine. Quindi questo è il primo kit che io ho comprato e sono curiosissima di provarlo. Io con questo ho in mente di farci una cappa da mettere sopra al piumino. Anche se viene un po' corta fa lo stesso, tanto diventa praticamente un coprispalle grande da mettere sopra al piumino per uscire d'inverno quando fa freddo o quando faccio i mercatini. Quindi una copertura in più. Secondo kit che ho comprato è composto da una cake di Yarn Art Flower Merino. Io questa non l'ho mai provata ed ero super curiosa. Si compone dal 25% di lana e il 75% di acrilico, 225 grammi e 590 metri di lunghezza. Quindi anche qui abbiamo da lavorare. Poi c'era un altro sacchettino con applicazioni che adesso andiamo ad aprire. Anche queste randomiche, quindi non si sa cosa ci fosse. Ci sono dentro due bigliettini. And made with love e thank you. E questi gelatini di Minnie. Molto, molto, molto carini questi per una bambina. Sono veramente eccezionali. Inoltre c'era un altro gomitolo di perfetto. Sempre mezzo cucirini. Ah, e un altro uncinetto che non avevo notato. Ok. Questo è un due e mezzo, il classico uncinettino di alluminio. Quindi un altro uncinetto in omaggio e un altro gomitolo di perfetto. Questo, a differenza dell'altro, è un punto di colore leggermente più scuro, ma se si vuole proseguire la lavorazione, si può fare tranquillamente. Qui abbiamo 50 grammi per 133 metri. Quindi una buona resa. Io come filato, vi dicevo, lo conosco già perché ci ho fatto due maglioncini e sono venuti molto bene. È 100% acrilico questo, ma lo sapete, io non ho niente contro l'acrilico e quindi va benissimo così. Metto anche l'altro uncinetto nella tazza degli uncinetti, metto via anche questi gomitoli e andiamo a vedere insieme l'ultimo lotto che ho comprato. Che altro non è che tre gomitoli di lana di alpaca. Come vedete io passo dall'acrilico all'alpaca. Allora, perché ho preso questo piccolo lotto? Intanto perché avevo paura che mi pizzicasse tantissimo. Non so perché, non ho mai provato 100% alpaca. Questo è un 100% alpaca, 50 grammi, 167 metri da lavorare con l'uncinetto del 13 qui. Quindi vedrò poi come lavorarlo, anche 3,5 secondo me va bene perché la lana poi anche lavorata morbida è bella. E nulla, l'ho preso di questo colore molto neutro perché ho detto se poi mi dà fastidio, ovviamente lo metterò, farò qualcosa da mettere sul banco. Mi sembra molto 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 morbida e non mi sembra che dia fastidio. Però, come vi dicevo l'altra volta, anche il filato Earth mi sembrava super morbido, super soffice e invece mi pizzica come un assassino. Quindi, però, ripeto, è un problema mio con la lana che ho da sempre. Quindi, non è un problema della lana, ma sono io che sono molto sensibile al pizzicore. E nulla, a toccarlo mi sembra veramente molto morbido, è sofficissimo, è leggermente peloso, ma non tanto. Ah sì, così si percepisce un po'. E quindi, nulla, l'ho preso panna, ne ho presi solo 3 gomitoli, ma se mi troverò bene sicuramente sarà un filato che ricomprerò perché aveva un ottimo prezzo. Credo che questi 3 io li ho pagati 7 euro, 6,99 euro, 9,99, non mi ricordo. Non mi ricordo assolutamente perché io poi ho tenuto l'ordine aperto, ci ho buttato dentro cose e quando sono arrivata al... che mi sembrava insomma una buona cifra ho chiuso, quindi non mi ricordo i prezzi singoli. Però, come vi dicevo, io sono nel gruppo Whatsapp Privé e quindi mi arrivano le offerte giorno per giorno e seleziono cosa comprare e cosa no. Per entrare nel link Privé trovate il link sulla pagina Facebook di Salvatore Deprisco Lanamania. Ve lo lascio giù nell'info box perché in questo momento mi sfugge. Comunque lui si chiama Salvatore Deprisco e la pagina dovrebbe chiamarsi Lanamania di Salvatore Deprisco. Ma ve lo lascio giù nell'info box così avete maggiori riferimenti. E vi dicevo, ho voluto provarlo perché ero curiosa, perché va bene essere fan dell'acrilico. Però, insomma, quando si trova della lana buona, quantomeno sulla carta, perché sulla carta è una buonissima lana questa, ad un prezzo conveniente, secondo me vale sempre la pena di provarla. Io adesso sto lavorando un gomitolo di filato Iro di Katia, che è un 95% Merinos e 5% Seta. Quello non pizzica neanche a un neonato, penso. Però costa anche 30 euro al gomitolo, quindi quando trovo queste offerte non me le lascio scappare, assolutamente. E, niente, lo proverò perché anche di questo sono super curiosa, però di questo non so cosa farci. Cioè, nel senso, sono molto indecisa su cosa farci. 50 grammi, 167 metri, significa che due sono circa 340 metri, più 170, siamo sui più di 500 metri comunque in 150 grammi. quindi non male, però con i ferri del 3 secondo me non si va molto avanti. Quindi o lo lavoro con i ferri più grossi, oppure mi invento qualcosa da farci, non lo so. Tanto poi io tengo lì, tengo lì e prima o poi l'ispirazione viene, quindi non è un grosso problema. E nulla ragazzi, questi sono tutti i miei acquisti da lana mania questa volta. Molto contenta di tutti i vari omaggini che mi hanno messo, tra cui le applicazioni, i sacchettini, gli uncinetti, la scatola molto bella, molto utile anche, cioè se dovete fare un regalo, quella è un'ottima scatola regalo. Quindi assolutamente super soddisfatta, sia dei filati, adesso a toccarli a prima colpo d'occhio, che anche come servizio, perché vi ripeto, io tutte le volte che compro da loro, come anche da altri store, perché non sono gli unici, però si sta parlando di loro in questo momento, e io mi trovo seguita benissimo e veramente con delle persone molto carine, molto affabili, si respira proprio un bell'ambiente anche quando parli con le ragazze, anche solo che seguono le spedizioni. Quindi sono veramente molto 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 carini tutti quanti. Detto questo, oggi video velocissimo, io vi saluto, vi lascio un grosso abbraccio, un bacio, se vi è piaciuto di stare in mia compagnia, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto a un prossimo video. Ciao!